Musica Lunedì 3 luglio, buongiorno, buon inizio di settimana da me e da Michele Ventitelli in regia. La prima edizione del telegiornale, parliamo anche di politica, tre enti accomunati dal risultato elettorale delle regionali. Per un anno la provincia, il comune di Campobasso e il comune di Termoli avranno un vertice diverso prima delle nuove elezioni che verosimilmente saranno accorpate agli europei il prossimo giugno. Ci dice di più in questo servizio Giovanni Di Tota. La provincia, il comune di Campobasso e il comune di Termoli, tutti enti legati a filo doppio al risultato delle regionali che hanno incoronato da trionfatore Francesco Roberti, nuovo presidente della regione. Da sindaco di Termoli, Roberti dovrà rinunciare all'incarico di primo cittadino una volta proclamato eletto alla guida di Palazzo Vitale. La ratifica del Consiglio Comunale potrà avvenire entro 90 giorni, un periodo di tempo che non consente lo scioglimento dell'amministrazione e il ricorso alle elezioni anticipate per l'autunno. L'attuale vice sindaco, Vincenzo Ferrazzano, traghetterà dunque il comune fino alle elezioni della prossima primavera verosimilmente accorpate alle europee in programma i primi di giugno. Uno scenario analogo a quello di Campobasso, nel capoluogo Roberto Gravina ha già dichiarato che sceglierà il ruolo di consigliere nei banchi dell'opposizione a Palazzo Daimmo. Dunque la reggente del municipio per i prossimi 12 mesi sarà la vice sindaca Paola Felice. Anche in questo caso i 90 giorni per la ratifica delle dimissioni del sindaco, ancora in carica, non consentiranno le elezioni anticipate in autunno. Così la prossima primavera gli elettori di Campobasso e di Termoli saranno chiamati a votare un nuovo sindaco e un nuovo consiglio provinciale insieme ai rappresentanti al Parlamento europeo. Diversa la procedura della provincia, qui il presidente in carica, Francesco Roberti, che decadrà appena non sarà più sindaco di Termoli, dovrà firmare con le proprie dimissioni un decreto di nomina del nuovo presidente. L'attuale vice di Palazzo Magno è il sindaco di Ripabottoni, Orazio Civetta, tra i papabili per l'incarico di presidente che durerebbe in carica un anno anche Alessandro Pascale. A Campobasso sono stati completati gli interventi sul primo tornante che da Piazzale Palatucci conduce all'ingresso della via Matris. Il tratto di strada è stato riaperto al traffico nei due sensi di marcia, ma a qualche metro più avanti c'è l'ingresso, chiuso da anni, ormai della via Matris. La passeggiata, tanto cara a Campobassani, ridotta ad una discarica a cielo aperto tra incuria e degrado. Ce ne parla Anna Maria Di Matteo. A Campobasso è stato riaperto al traffico nei due sensi di marcia dopo mesi di lavori e la primo tornante che porta la collina a Monforte e che dal Piazzale Palatucci conduce all'ingresso della via Matris. Gli interventi eseguiti su questo tratto di strada hanno riguardato essenzialmente il ripristino completo del muraglione che corre sul lato destro della salita, realizzato inoltre il marciapiedi che consente pedoni di circolare in sicurezza e il rifacimento dell'asfalto oltre alla posa di un parapetto in legno. Il colpo d'occhio è quello dell'ordine della pulizia. Le opere sono finanziate interamente con contributi ministeriali ottenuti dal comune di Campobasso per un importo complessivo di quasi 4 milioni e 800 mila euro. Fra le opere previste nel progetto c'è anche il consolidamento della collina a Monforte per un importo di 965 mila euro. A breve, annunciato il sindaco Gravina, saranno completati i lavori anche sugli altri tornanti. Fin qui tutto benissimo. Peccato che la situazione cambi radicalmente quando si arriva davanti all'ingresso della via Matris. Cancello sbarrato e dietro un quadro a dir poco desolante. Erbaccio ovunque, passaggio pedonale quasi completamente coperto dalla vegetazione, sporcizia e un curia dappertutto. Uno degli angoli più suggestivi della città, ridotto ad una discarica a cielo aperto tra le proteste dei cittadini che da anni chiedono la riapertura in sicurezza della passeggiata tanto amata dai campobassani. E siamo alla cronaca di 5 feriti, alcuni trasportati in ospedale a Campobasso in codice rosso, ma sembrano in pericolo di vita. Il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla stradale 87 Sannitica, all'altezza del sito archeologico di Altilia. Due auto, per cause che devono ancora essere accertate, si sono scontrate frontalmente. Tutti gli occupanti sono stati trasportati al pronto soccorso di Campobasso per le cure del caso. Sono intervenute le ambulanze del 118 di Croce Rossa e Croce Verde, i vigili del fuoco del capoluogo e i carabinieri. Il traffico ha subito rallentamenti, ma poi la circolazione è tornata a regolare quando i mezzi sono stati rimossi dalla carreggiata. Bene, con questa notizia ci fermiamo con la prima edizione del Tg. Adesso uno sguardo ai quotidiani locali e nazionali. Iniziamo con il giornale del Molise, in evidenza questa notizia di cronaca, che avete sentito anche nel Tg. Violento frontale sulla stradale 87, in territorio di Guardiareggio il bilancio è di 5 feriti. Poi provincia e comuni di Campobasso e Termoli al cambio di vertice. Restiamo a Termoli, rientra l'allarme per emodinamica del Santimotico, in arrivo 8 dirigenti medici. Si parla anche dell'Università del Molise, aperte le immatricolazioni e iscrizioni, si arricchisce intanto l'offerta formativa. Restiamo sul web con East News, anche qui in evidenza c'è la cronaca, schianto frontale tra due auto, in ospedale 5 feriti. Tre sono in gravi condizioni, sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. L'incidente nella zona di Guardiareggia. Poi ci sono anche le altre notizie che riguardano gli aspetti politici, regionali. Conte poco si è potuto fare contro un sistema ben oleato e ramificato di potere. Per Fratelli d'Italia, da record, risultato a record, il migliore della destra conservatrice in Molise. Ci spostiamo su primo piano. Sanità e bilancio, le prime grane per il presidente Roberti. In cima all'agenda delle priorità, il piano di rientro per saldare in dieci anni il debito da 130 milioni di euro, con l'impegno vincolante a non creare altro deficit. Intanto l'assessore uscente Cotugno rassicura il centrodestra. Il prossimo direttore generale dell'ASDREM lo nominerà il nuovo governatore. Vediamo anche gli altri titoli. Uno non vale più uno, in fuga dal Movimento 5 Stelle. I consiglieri di Termoli di Michele, De Caro e Bovio sbattono la porta. A fondo pagina, frontale tra due auto sulla statale 87, cinque feriti in ospedale, tre in codice rosso. Alcuni richiami, si parla di una determina, i capi di partimento, c'è la commissione, dovrà stilare l'elenco degli idoni. Un report, piccole e medie imprese, Assindustria, PNRR, opportunità storica per superare le criticità. I richiami di spalla, piovono pezzi di cornice sul marciapiede, tragedia sfiorata, la notizia riguarda i Sernia. Mentre da Campobasso, Lite in un bar, sfocia in aggressione, giovane finisce in pronto soccorso. Il punto porta la firma di Pasquale Damiani, il centrodestra esiste e resiste. In alto i titoli di sport, il Campobasso colpo Luca Ricciardi a centrocampo. In arrivo il terzino sinistro, Rasi. Calcio di eccellenza, il Guglionesi riabbraccia il centravanti, Michele Consolazio. Infine, il mondo dei motori, Fabio Emanuele domina la settima edizione dello slalom di San Nicola. Ora i quotidiani nazionali, qui c'è l'economia, la cronaca, chiaramente la politica, in evidenza. Il Corriere della Sera riporta un'intervista a Giorgia Meloni. Fondi europei, obiettivo vicino. Meloni rivendica un cambio di passo sui migranti. Poi dice, il MES può attendere. E aggiunge, basta tafazzismo sul PNRR. E sull'Europa, Partito Popolare, Europeo e Socialisti, intesa innaturale. Dittaglio medio, questa foto, il coltello, la droga ai complici, Michel, i misteri di un delitto, si parla del delitto di Prima Valle, sotto esame, le telefonate dell'assassino. Stasera le fiaccolate. Intanto adesso in Francia, la famiglia di Nahel, il ragazzo ucciso da un poliziotto, ora fermatevi, attacco intanto a un sindaco, e c'è stato un vertice all'Eliseo nella notte. Andiamo a vedere la prima di Repubblica, che si occupa di un aspetto, di questo aspetto, assalto a generali. Grandi manovre in borsa, la finanziaria della famiglia del vecchio, autorizzata a salire oltre il 10%, si riapre la sfida per il controllo della compagnia. L'operazione può influire sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, dove ci sono anche movimenti di Caltagirone e Benetton. E ancora leggiamo su Repubblica, piano del governo, 4 miliardi del PNRR, subito alle aziende green. Taglio centrale, Francia, le madri contro la rivolta. Un'altra notte, purtroppo, di violenze, dopo l'uccisione di un ragazzo. Il Fatto Quotidiano si occupa della ministra Sant'Anché, 462 accertamenti in Maserati e multe mai pagate. Viene definita la Marchesa del Grillo. Il bolide diesel in centro a Milano e le 43 soste vietate. In alto, un'inchiesta media parte Torino-Lione, i lavori per il Tav prosciugano le sorgenti dell'acqua. Allarme e proteste green in Francia. Dal Fatto Quotidiano al Libero parla Ignazio La Russa, Presidente del Senato. Ecco perché Fratelli d'Italia governa e il PD no. Il Presidente dice noi abbiamo conservato valori e memoria. I dem no. Altro titolo, Così volevano corrompermi di Giuseppe e di Fratelli d'Italia. Colpa della mala gestione PD 5 Stelle. Il racconto del deputato che ha denunciato il racket dei visti per i migranti clandestini. Ora il messaggero. Alimentari rincari alle stelle, l'ombra della speculazione. L'Istat certifica gli aumenti anomali di giugno con picchi fino al 46%. C'è un'intervista al Ministro Urso, Ministro del Made in Italy. Allarme alto, bisogna intervenire. Di taglio centrale, la lunga agonia di Michelle si poteva salvare. I dettagli shock dell'interrogatorio del killer. Non è morta subito, l'ho lasciata soffrire. Questo è quanto ha detto il ragazzo. Ora il secolo d'Italia. Vediamo il titolo di apertura. Orgoglio Italia. I giovani fratelli d'Italia lanciano la sfida futurista. Mentre a fondo pagina, siamo in Francia, appello alla calma della nonna del ragazzo ucciso. Continuiamo con la stampa. Salario minimo a fare per lo Stato. C'è un'intervista con Tridico, ex IMSS. Vale un miliardo e mezzo di gettito in più. Meloni dice, con me più occupazione. Messaggio del governo dopo i dati dell'Istat. Ma crescita e salari sono fermi. Parla anche Boeri. Serve mano d'opera migrante. Di taglio centrale queste due grandi foto. Inferno francese. Oltre 3.000 arresti. Macron annulla il viaggio in Germania. E poi il mattatoio Bakhmut. Rapporto della CIA. Il potere di Putin sta svanendo. Chiaramente si parla della guerra, del conflitto in Ucraina. Il sole 24 ore. Aiuti alle famiglie. Welfare aziendale. Via al maxi sconto. Ma non per tutti. L'ultimo ok al decreto lavoro. Conferma a 3.000 euro l'esenzione delle somme erogate ai genitori. Ci sono le regole. All'interno del sole 24 ore. Nel privato coinvolto il 36% degli occupati. Chiudiamo il quotidiano di Confindustria. Passiamo adesso allo sport. Vediamo la gazzetta. In alto. Pioli. Mi gioco tutto. I pensieri del tecnico che punta sul rosso-nero. Nuova sfida col Milan. Più responsabilità. Ma senza Maldini. Anche molti più rischi. Vuole mediani, potenti. E gli piace Reinders. Lukaku. Grande foto per lui. C'è l'offerta. In Sardegna. Dove Romelu aspetta l'Inter. Dunque al Chelsea. Saranno proposti 30 milioni. Per il riscatto definitivo. Intanto la Juve vende. La conta degli esuberi bianconeri. Di spalla l'automobilismo. La Formula 1. Verstaffen. Cannibale. Elkan. John Elkan. La Ferrari. Migliore dell'anno. Torniamo sui quotidiani regionali. Lo facciamo con il centro. Quindi siamo in Abruzzo. Vediamo subito l'apertura. Comune. 96 assunzioni entro l'anno. Si parla del comune di Pescara. Ok della giunta al nuovo piano occupazionale. E ripartono le selezioni. In alto. Fiume Pescara. Ecco 5 vasche anti alluvione. Lavori per 54 milioni. Sono i grandi progetti della regione. Chiudiamo la pagina principale del centro. Andiamo su quelle locali. In particolare siamo a Teramo. Azioni ex Tercas. Altri risarcimento. La Corte d'Appello dà ragione. A otto risparmiatori. Non furono informati. In alto l'Abruzzo nello spazio. Partito il satellite Euclid. Che mapperà l'universo. Missione dunque di Thales Alenia Space. Ancora il centro. scritte e simboli satanici sulla chiesa. Una notizia riguarda Chieti Scalo. Nel Mirino. La parrocchia di San Pio X. Ora indagano i carabinieri. Di taglio centrale. Turista amore sulla spiaggia. Sotto gli occhi della moglie. Arriva da Roseto. La notizia. Questo è avvenuto dopo. Il bagno in mare. Premio. Flaiano. Fiorello. E' il mattatore. Lo showman conquista tutti. Una parata di stelle. Per celebrare la cinquantesima edizione. Una notizia chiaramente arriva da Pescara. Ora l'area dell'Aquila Avezzano e Sulmona. Municipio rinviata alla riapertura. Non c'è pace per Palazzo Margherita all'Aquila. Adesso servono nuovi lavori. Anche qui i premi Flaiano. A fondo pagina invece uccisa dal marito parla la madre. Il femminicidio nel 2022. La donna era della Valle Peligna. Il delitto Majorano. C'erano avvisaglie. Ilaria poteva salvarsi. Andiamo a vedere adesso il messaggero. Abruzzo. Coca e Appalti. Seduta Rovente. I Pescara. Stasera il consiglio sullo scandalo lavori pubblici. Per Masci è la prova più dura. I comitati cittadini chiedono in massa di intervenire. Regole ferre per prevenire disordini. Vedete il premio Flaiano. Un'edizione super per la cinquantesima edizione. La serata dei premi. Ed è in coia di taglio centrale. Toto. La procura fa appello. Manutenzione mancata. L'Aquila dunque verso il secondo round sul caso Viadotti. Una perizia indica le inadempienze della società. Bene. Con il messaggero d'Abruzzo termina il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.